direttamente a iniziare la serata. Allora, per chi non vi conoscesse, sono Alessandro Recenti, con Sara abbiamo fondato Coaches, anche se ormai sono settimane che ci seguite, ci fa piacere, stiamo cercando di mettere, di darvi valore, di darvi tanto valore con questi webinar, con le newsletter che ricevete, con il nostro blog, con anche i post che mettiamo sui nostri social. E quindi noi siamo sempre contenti quando riceviamo le mail, come quelle che abbiamo ricevuto in questi giorni, dove ci chiedono idee, ci chiedono parieri, ci chiedono anche scambi di opinioni. Questo è un pochino quello che vogliamo fare. Però voglio iniziare subito con la serata, andando subito quelle che sono le prime domande, quindi leggo le domande che sono arrivate. E vi invito anche a scriverle nella chat, così almeno anche in diretta, posso leggere le vostre domande. Direi che possiamo iniziare con la prima. Allora, nel programma settimanale e giornaliero, quanto tempo dedica alle esercitazioni situazionali e quanto alle esercitazioni a schemi? Che importanza hanno entrambe nel suo modo di lavorare e nei principi tattici? Beh, allora, soprattutto le mie settimane di allenamento sono organizzate sono orientate sui principi. Quindi, o meglio, sulle situazioni e inserisco i miei principi nelle situazioni. Questo è quello che faccio solitamente. Ormai sono anni che lavoro in questa maniera. Poi, chiaro, non tutti i campionati sono uguali, non tutti i giocatori o giocatrici sono uguali. Quindi, è normale che si debba sempre riuscire ad adattare in relazione ai giocatori che hai, ai giocatori che avete. Però, io vi dico che la maggior parte dei merenamenti sono situazionali. Li divido poi per principi macro, per principi, quindi macro principi di gioco, sotto principi e sotto sotto principi e andando a lavorare in relazione a quello che è il giorno della settimana. Seguendo un po' quella che è la periodizzazione tattica, che fra l'altro, come sapete, abbiamo anche prodotto un corso su questa metodologia di Vietrofrade, che è un po' quella che organizzo, che strutturo con le mie squadre. E per rispondere alla domanda dell'amico, posso dire che sicuramente i merenamenti sono prevalentemente organizzati sui principi, non sugli schemi. L'unica cosa è che posso condurla, ricondurla alla parola schema, scusatemi, è sicuramente il salto mattina quando faccio la rifinitura e si lavora sulle palle native. Ecco, lì posso dire che utilizzo gli schemi di corner o calcio di punizione laterale offensivo o difensivo. Quindi è l'unico momento della settimana dove possiamo parlare di schemi. Ma poi si lavora sempre per principi e si lavora sempre in situazione. E per andare più nello specifico, tutti i giorni. Quindi partendo da quello che è il primo giorno d'allenamento, dove si va a toccare i principi di gioco che nella partita precedente non hanno funzionato al meglio, quindi si va a toccare quell'aspetto. Il mercoledì si lavora in spazi più ristretti, partita pressione, all'interno metto i principi di gioco. Il giovedì si lavora in spazi più ampi, quindi meno dispendio emotivo, meno dispendio emotivo cognitivo, meno dispendio fisico e si lavora in regime tattico, in regime di principi di gioco in fase di possesso palla, mentre il venerdì in quelli di fase di non possesso palla e sabato di finitura. Vi devo scusare, sono un po' raffreddato, però ci teniamo a fare questa serata e risponderò finché resisto alle vostre domande. Vediamo la seconda e nel frattempo vi invito ancora a scrivere domande nella chat. In agonistica, mister, pensi che debba svolgersi tutto in situazione o prevedi che ci siano anche degli esercizi analitici? Allora, io ho un mio pensiero riguardo la tecnica analitica piuttosto che la tecnica analitico situazionale. Io penso che sia importante la tecnica analitica e penso che ci siano degli aspetti molto importanti da lavorare, quindi curare il gesto, senza ombro di dubbio. Se noi andiamo a curare il gesto, avremo sicuramente giocatori e giocatrici che sapranno curare il gesto anche in difficoltà, come passando poi in maniera non viso. Questo è il mio personalissimo pensiero in merito. Sapranno curare il gesto dal pensiero analitico, quindi dal gesto analitico al situazionale, quindi in difficoltà contro un avversario. Questo è il mio pensiero. Credo che non si debba togliere un aspetto a un bambino e poi a un ragazzo per andare verso un altro, ma dobbiamo riuscire a dare ai nostri giocatori tutto quello che è necessario, tutto quello che è importante e che possa aiutare il nostro giocatore, possa aiutare poi la nostra squadra. Però mi piace credere, non ho esperienza, devo essere onesto, a dirà di una stagione con le bambine di categoria di base, però credo che prima si debba partire dall'analitico per poi arrivare al situazionale. Non mi piace escludere, ma mi piace includere sempre, e quindi anche durante gli allenamenti mi piace includere questo. E mentre in agonistica, per rispondere alla domanda, andrei a preferire l'aspetto situazionale, diciamo anche sotto pressione in alcune esercitazioni, però andando poi a lavorare sulla tecnica di base, ma sempre legata a un aspetto situazionale. Sempre, a me voglio vedere. Allora, terza domanda che è divisa in tre parti. Ciao Alessandro, non posso di nuovo mancare, sono ripetitivo, la mia domanda gira e rigira è sempre la stessa che ho fatto anche a mister Andrea Zoli e mister Semplici, quindi la fai pure a me, dovrò impegnarmi su questa domanda. Leggiamo la seconda parte. La settimana tipo per un allenatore dilettante, due o tre allenamenti a settimana, che i principi assolutamente non devono mancare? Che metodo è più funzionale? Leggiamo la terza parte. È giusto integrare con una parte atletica a secco per sopperire al poco tempo di esposizione? Grazie e sempre complimenti. Grazie mille. Allora, parto da quest'ultima parte, con una provocazione. E dico a te, ma dico anche a tutti gli amici che ci stanno scrivendo, proprio perché abbiamo poco tempo. Abbiamo due allenamenti, che durano mediamente un'ora e 45. Questo potrebbe essere una linea di massima, no? Quindi due allenamenti è un'ora e 45. Se io fra riscaldamento e lavoro atletico, lavoro fisico, utilizzo 45 minuti, mi rimane un'ora per allenamento. Un'ora e 45, quindi meno 45 minuti, mi rimane un'ora. Quindi io allenerei la mia squadra, vuoi mettere 20 minuti di partita? Quindi dico l'ora lì e rimangono 40 minuti. Quindi vorrebbe dire che io alleno la mia squadra per 80 minuti a settimana quando ho due allenamenti, ok? E per, se aggiungo 40 minuti, 120 minuti, cioè due ore, la mia squadra quando ho tre allenamenti, facendo un calcolo molto velocemente. Ora io dico questo, perché io mi faccio questa domanda e vi dico, me la sono fatta anche tante volte. Ho avuto la possibilità di allenare una prima squadra in eccellenza, in sostituzione, in corsa, per due anni consecutivi, quattro giornate alla fine, con l'obiettivo sempre di salvarci e ci siamo salvati in entrambe le stagioni. Quindi mi faceva una domanda, ma io ho tre allenamenti, perché devo utilizzare il mio tempo in questo modo, facendo un lavoro secco e lavorando con la mia squadra solo per così poco tempo? Questa è una domanda che mi faccio. Allora mi faccio anche un'altra domanda, capendo soprattutto che magari, avendo due tre allenamenti, hanno tutto il giorno il lavoro, hanno a casa magari problemi differenti, hanno tante situazioni. Però dico, perché invece ai giocatori che appunto lavorano, che appunto hanno queste problematiche, hanno situazioni particolari, quando vengono al campo non gli faccio fare calcio? Il mio pensiero è questo. Facciamogli fare calcio. Abbiamo tre allenamenti, ne andiamo due, facciamo calcio, facciamogli giocare, facciamogli fare esercitazioni, propedeutica quello che vogliamo fare. Questo è il mio modo di vedere con così pochi allenamenti, sia in prima squadra, e che ovviamente, lo devo nemmeno dire nei ragazzi con due allenamenti, dobbiamo farli giocare. Questo l'ho sempre pensato. Non posso dire che l'ho sempre fatto, perché all'inizio della mia carriera non lo facevo, facevo correre, facevo anche preparazioni estive chilometri su chilometri su chilometri, poi ho cambiato totalmente il mio modo di allenare, il mio modo di pensare, il mio modo di concepire al calcio, di concepire la visione del mio calcio. E questo poi ha fatto sì che il mio modo di allenare si evolvesse, cambiasse. Poi è sempre soggettivo capire se in meglio o se in peggio. Quello poi dipende come lo percepiscono i nostri giocatori, come l'hanno percepito i miei giocatori. E quindi questo è un po' quello che io posso dire. E quindi proprio per sopperire al poco tempo, io il lavoro fisico lo andrei assolutamente non a integrare, ma a globalizzare con quelli che sono i miei principi di gioco, con quello che voglio che i miei giocatori facciano la domenica. Quindi torno indietro alla domanda due, quindi andiamo sempre, andiamo indietro in questo caso alla seconda domanda. La settimana tipo per un allenatore dilettante due o tre allenamenti a settimana, che principi assolutamente non devono mancare e che metodo è più funzionale. Allora, dicevo poco fa, che metodo, che metodologia, vi ripeto quella che utilizzo io, adattata a quella che è sempre la squadra che alleno, è la periodizzazione tattica. Si può fare con due allenamenti? Assolutamente sì. Come? Utilizzando quelli che sono i principi di gioco fondamentali che tu vuoi trasmettere alla tua squadra. Se un tuo principio di gioco è la verticalizzazione immediata, per esempio, recupero, verticalizzo, quindi lavoro sul recupero e verticalizzo. Ho due allenamenti? In entrambi gli allenamenti lavoro sul recupero e verticalizzo. In entrambi gli allenamenti lavoro sulla parte di contropressing quando perdo la palla e sulla verticalizzazione immediata quando recupero. In entrambi gli allenamenti lavoro su spazi stretti il primo giorno, su spazi più ampi il secondo giorno. Però quali principi? Quelli che vi ho appena detto. Quindi, con questo tipo di metodologia potete andare anche con due o tre allenamenti a toccare questi aspetti, perché è una metodologia portata a toccare gli aspetti dei tuoi principi di gioco per arrivare a quello che è il tuo modello di gioco. Quindi, quali principi assolutamente non devono mancare? I principi che tu vedi utili per la tua squadra. Io ti posso dire i miei, dove voglio un gioco veloce, dove voglio quello che ti ho appena detto sostanzialmente, cioè un recupero veloce della palla quando la si perde e una verticalizzazione immediata. Quindi, se tu chiedi a me quali principi non possono mancare, io ti dico questo. Quindi, verticalizzazione, riaggressione e pressing a tutto campo. Questa è l'idea. Poi, chiaro, bisogna trasmetterla e poi bisogna tramutarla in campo. Questa è la cosa più importante. È questo l'importante. Riuscire a trasmettere le idee ai giocatori, ma poi i giocatori devono portarla lì. E questo è un aspetto importantissimo, perché poi sapete bene che da partita, perdono, da allenamento a partita cambia tutto. Quindi, per rispondere, sei tu che conosci la tua squadra, sei tu che sai quelli che sono i principi fondamentali che non possono mancare, ma solo esclusivamente conoscendo i tuoi giocatori. Andiamo alla prima, alla prima parte. Ok, è quella che saluta, benissimo. Andiamo avanti. Quanta strategia? Allora, quanta strategia è necessaria inserire nel morfociclo settimanale di preparazione alla prossima partita. Ho letto una cosa molto interessante. Adesso chiedo a Sara di andare magari a recuperarla. Ha fatto un intervento, Bielsa, avrete visto le fotografie che hanno messo, e sulla pagina dell'Aiacan, che penso che ci sia, proprio un intervento di Bielsa. E la cosa molto interessante è quello che ha detto lui. Quello che prepara le sue settimane anche in funzione dell'avversario, quindi anche sulla strategia in funzione dell'avversario, per esempio, ma anche, soprattutto, in funzione della propria squadra. E la strategia è come vogliamo preparare la partita. E non necessariamente è come giocano gli altri, o come devo affrontare gli altri, ma come quello che voglio che la mia squadra faccia. Io la interpreto, la voglio in questa maniera. E probabilmente alle mie squadre chiedo più strategia che tattica, perché questo credo che sia la strategia comune dei giocatori all'interno di un contesto di gioco, all'interno di una situazione. Penso che sia questo l'aspetto importante. Quindi quanto è necessario inserire in un morfociclo settimanale, io voglio generare sempre, perché, come ho detto all'inizio, quando martedì lavoro su questo aspetto, quindi lavoro su quello che in partita non ha funzionato, allora per me quella è già strategia. Perché è già strategia della partita passata in preparazione strategica della partita prossima. E quindi questo per me è strategia. Il mercoledì quando lavoro in spazi ampi, a livello più globale, lavorando sulle transizioni per esempio, per me questa è già strategia. Il giovedì, fase di non possesso, i principi di gioco, quindi come poter adattare la squadra, come difendere, come voglio che difendere, come voglio che difenda la mia squadra senza adattare. Per me questa è strategia. Il venerdì offensivo è strategia. Il sabato pari nativi è strategia. Quindi sempre la mettiamo, ma dobbiamo essere bravi a utilizzare al meglio questa strategia per trasmettere ai nostri giocatori quello che è il nostro punto di vista e portarlo in capo. Andiamo su una domanda che avete scritto voi adesso in diretta. Qual è il modulo che consiglieresti per una squadra che non ha un centro avanti o prima punta? Ma allora, dipende nel senso che faccio un po' ragionamento, faccio un ragionamento a voce alta con voi. Se non ha un centro avanti, che tipo di attaccanti ha? Io presumo, leggendo la tua domanda, un centro avanti classico, alto, fisico. Presumo che sia questo un po' il punto della domanda. Penso che, per dire, il mio di Ancelotti giocavo con l'albero di Natale e 4-3-2-1 con tante volte con i zaghi come punta. Non è un centro avanti di un metro e novanta. Dipende sempre con che tipo di attaccante tu hai. Se hai un attaccante che attacca lo spazio, questo sistema di gioco con due trequartisti dietro la punta, a me piace molto. È chiaro che se non ho il centro avanti, giocare per esempio con 4-4-2, dove magari due esterni, due ali, scusatemi, che crossano, se non hanno un attaccante d'area, lo vedo un po' sprecato. Magari può essere funzionale, per alcuni altri aspetti, conoscendo la vostra squadra, la tua squadra. Però 4-3-2-1, il sistema di gioco mi piace molto. È un sistema di gioco che potrebbe essere interessante e se invece non si dispone di un play che ti può far giocare la squadra in una certa maniera, allora anche il 4-2-3-1 può essere un altro sistema di gioco interessante. Sempre con questi duali, magari, importanti, può essere interessante quando hai un attaccante bravo a attaccare la profondità e quindi bravo a muoversi anche sul filo del fuorigioco, poi faceva lo stesso in Zaghi. Quindi questa potrebbe essere una soluzione. Quindi se vado a pensare a due sistemi di gioco di questo tipo, parlando di numeri, direi che questi due potrebbero essere due sistemi di gioco atti a quella che potrebbe essere la caratteristica che tu mi hai scritto. Nel frattempo vi invito sempre a scrivere le vostre domande, cos'è meno rispondo, ci sono arrivate ancora delle altre, ci sono arrivate delle altre da casa, nel frattempo potete continuare a scrivere. Eccolo qua. Mister, le chiedo come lavora con le sue squadre e la riconquista immediata della palla. Ti ho anticipato. È un mio pallino quella della riconquista della palla. Grazie sempre di tutto, un abbraccio. Un abbraccio a te e grazie a te e grazie a voi che seguite la diretta, che seguite queste dirette. Allora, come lavoro sulla riconquista immediata della palla? Beh, lavorando su esercitazioni del contropressing, che sono esercitazioni che mi piacciono molto, che possono avere tante tante varianti, che danno anche un senso di connessione tra i reparti, perché uno degli aspetti importanti del contropressing, lo stavo dicendo del contropressing, è proprio la connessione tra i tre reparti, tra difesa, centrocampo e attacco. Perché? Perché se vado a pressare forte con gli attaccanti, qui parlo chiaramente in un contesto di partita, se vado a pressare forte io devo avere la fiducia dei miei centrocampisti, che mi seguono, che vengono con me, che la difesa li spinge fuori. Quindi questo sarà importantissimo, organizzando un contropressing e quindi un recupero immediato del pallone in questa maniera. Questo assolutamente sì, penso che sia fondamentale. Mi piace organizzare questo chiaramente in tutte le parti del campo, perché se vogliamo lavorare con un recupero immediato della palla, dobbiamo trasmettere tanto coraggio, tanto coraggio e tanta fiducia dei propri mezzi, tanta autoefficacia, perché questo è troppo importante. Se la vuoi sul recupero della palla, questi aspetti che vi ho appena detto, a mio modo di vedere, sono molto importanti che l'esercitazione stessa. Questi aspetti sono molto importanti. E entrando invece nell'aspetto esercitazioni, mi piace lavorare partendo da uno spazio piccolo, andare a pressare, andare a portare pressione quando si perde palla a mille, per poi andare a ingrandire e entrare in situazione. Quindi posso anche dividere, per esempio, andando a lavorare sulla regressione, sulla lateralità, in zona laterale, andando a lavorare sull'aggressione a centrocampo, andando a lavorare sull'aggressione della linea. Chiaramente su palla coperta, questo lo sappiamo, non lo devo nemmeno dire, no? Però questo tipo di lavoro, a mio avviso, deve essere fatto prima trasmettendo ai nostri giocatori e giocatrici tanta fiducia in loro mezzi e tanta fiducia e connessione tra le parti. Questo è troppo importante. È troppo importante riuscire a trasmettere questo ed è troppo importante che i giocatori all'interno dell'esecitazione stessa, all'interno degli allenamenti, riescano a trasmettersi fra sé questa fiducia. Credo che sia proprio alla base del recupero immediato e credo che sia alla base del contropressing. Quando noi vediamo squadre come il Liverpool, perché parlando di Klopp, gegen pressing, chiaramente, ce ne sono tante altre, quindi mi viene in mente Smith, mi vengono in mente tanti, stesso Guardiola, adesso per andare a citare proprio l'Olimpo. Però, ecco, questi sottirinatori che lavorano tanto sotto questo aspetto e stiamo a vedere per dire il City, il Liverpool, il Benfica, sono squadre che vanno a fare, hanno questo tipo di atteggiamento, magari con modalità differente, chi va a pressare di più la palla, chi va a pressare la palla e chiudere il passaggio, chi va a chiudere gli appoggi. Quindi dipende, sono le modalità differenti, ma il pensiero, come modo di vedere, analizzando, guardando, è proprio questa volontà, ma data dalla fiducia, data dal fatto che dice, io esco, ma tu sei dietro di me, questo è troppo importante. E se noi veramente saremo bravi a trasmettere questo messaggio, io esco, tu mi segui, perché tu mi segui, perché fiduci in me, questo è troppo importante, è bellissimo. E quando lo fanno in campo è ancora più bello. Questa è una cosa bellissima. Andiamo un attimo sulle domande live, che mi invito a fare quando volete. Io metto, non è scritta, però quando ci sono stati Mr. Longo, Mr. Semplici e Mr. Andrea Zoli, faccio due domande. Una è scritta, che farò alla fine, una invece non è scritta, ma perché mi è venuta ora in mente. Chiedo sempre quanto è importante lo staff e come si gestisce uno spogliatoio. Parto da quanto è importante lo staff. Per me è fondamentale. Io ho fatto, negli anni, il vice allenatore a due allenatori top, che sono Paolo Tramezzani e Beppe Sannino. Ho avuto la fortuna di lavorare con loro, di lavorare con loro in Serie A, in Svizzera e in Ungheria, e ho imparato tantissimo. Però credo che lo staff sia fondamentale. Sia fondamentale per l'allenatore, per uno staff che collabori, che sappia cosa deve fare, perché l'allenatore ha tantissime cose per la testa. E non deve pensare, ma il mio collaboratore ha fatto questo, il mio collaboratore ha detto questo, il mio collaboratore ha parlato con il team manager di questa cosa, il mio collaboratore ha parlato con il bidonalista di quest'altra. Quindi è chiaro che poi è il mister che alla fine ha sempre la parola, perché alla fine diciamo che il responsabile unico è l'allenatore. C'è una serie di interconnessioni che sono obbligatorie fra allenatore e staff, il vice allenatore e il preparatore fisico e i preparatori i portieri, video analista e potrei andare avanti con gli altri ruoli, team manager, direttore sportivo, non è lo staff, ma è il soprallenatore. Però credo che sia troppo importante la connessione che ci deve essere tra allenatore e staff. È importante quando lo staff dice all'allenatore il proprio pensiero, anche quando un autore sbaglia, che lo staff debba lavorare in questa direzione, proprio sulla stima reciproca e sulla fiducia reciproca. Nelle mie esperienze ho avuto questa fortuna di poter dire quello che era il mio parere. Con il mister Sanmino ho lavorato dieci mesi, poco perché poi è arrivato il covid e si sono tornato in Italia da mia moglie. Con Paolo, con Paolo Tramezzani, ho lavorato in tre diverse situazioni, abbiamo finito lo scorso campionato e quindi oltre all'amicizia che ci lega da 12 anni, quindi è una cosa differente. Poi la cosa bella di Avanzo Start è che si conoscono tante persone, anche con background differenti a Sion. Credo che ci stia ascoltando. Ho avuto la fortuna di lavorare con Andrea Sardini, preparatore dei portieri della Samp, ma non sto a dire il suo curriculum, ma perché oltre che essere conosciuto, ma perché è una grande persona e quindi la persona va oltre il curriculum e quindi questa è una cosa bella, no? Quando si riesce a lavorare in questa sinergia con lo staff, penso che sia la cosa più bella. E quindi rispondendo quella domanda che io stesso ho fatto al mister è fondamentale lavorare con lo staff e mi collego anche parlando del videoanalista. Io sono un po' un, passatemi il termine, un malato dei numeri, un malato della videoanalisi, delle statistiche. Mi piace, non è, come posso dire, non è assolutamente, diciamo, la parola di Dio. Però è una cosa che mi piace dare in considerazione e che mi piace condividere con i miei giocatori e le mie giocatrici. E quindi credo che anche il ruolo del videoanalista sia importante, il ruolo del videoanalista sia fondamentale. E quindi questa correlazione. Vi dico sempre una cosa quando parlo ai videoanalisti con cui collaboro. Credo che un allenatore non serva solo il video, i frame, i videoclip, fase offensiva, fase difensiva, corner, costanti. Credo che il videoanalista deve avere, deve inserire nel video l'anima dell'avversario. Cioè quella cosa che l'allenatore non vede, quella cosa che l'allenatore, anche se poi la vede, però quella cosa che non si vede subito. E questo credo che sia importantissimo. Il videoanalista deve riuscire a dare quella particolarità importante per l'allenatore. È arrivata una domanda e poi passo alla gestione dello sfogliatoio. Buonasera, buonasera mister. Avrei due domande. Ritenendo il pressing una situazione da allenare costantemente e dettagliatamente, ma spesso avendo poco tempo a disposizione, ritieni corretto allenarlo solo da un punto di vista atletico, lavorando sull'intensità. La seconda è la seconda domanda. Le differenze tra allenare una squadra maschile e una femminile. Due domande molto, molto interessanti. Allora, mi collego come ho risposto prima, proprio perché ho poco tempo, non vado a lavorare prevalentemente sull'aspetto fisico, ma sull'aspetto tattico, cioè sull'aspetto del mio modello di gioco, quindi è sull'aspetto di quello che i miei giocatori vogliono e che facciano in campo. E ha inserito un aspetto molto importante, cioè la intensità. Sapete, tante volte parliamo, utilizziamo questo termine, intensità, intensità, viene utilizzato tanto. Però io mi sono fatto, spesso mi faccio domande, alcune volte le rispondo, alcune volte ascolto, che è meglio che rispondere. E quindi leggo, studio, guardo, partecipo a serate come questa, anche dove io non faccio un relatore, anzi, soprattutto mi piace partecipare e ascoltare. E quando si fa l'intensità, io penso una cosa. Cos'è che contraddistingue l'intensità? Collegandomi poi alla tua domanda, mister. Io penso che sia la qualità tecnica. Vi spiego perché. Perché se io faccio, voglio intensità, fisicamente stiamo bene, andiamo mille, ma se mi arrivo a un passaggio e ci metto cinque tocchi verso palla, l'intensità va a farsi benedire. Quindi possiamo fare tutto il contropressing che vogliamo, che chiaramente è difficile avere intensità se per controllare un pallone io ci metto cinque tempi di giocato. Penso che sia palese come cosa, no? E quindi l'aspetto prevalentemente utilizzato nei menedamenti per quanto riguarda il contropressing, il pressing e il recupero del pallone è che cosa i miei giocatori o le mie giocatrici devono fare in un determinato contesto all'interno di una situazione di gioco. Quindi facendo tutto quello che ho spiegato prima, andando a lavorare sull'intensità, in spazi ristretti, con meno giocatori, allargando gli spazi, creando la situazione, creando la zona di campo dove voglio che venga recuperata la palla, creando la zona in campo dove voglio che esca successivamente la palla, se voglio verticalizzare, se voglio attaccare lateralità offensiva, se voglio gestire il pallone nella mia metà campo, se sono nella loro metà campo, dove è meglio attaccare? Quindi vado a pensare a questo piuttosto che lavorare sull'aspetto atletico. Io proprio andando, soprattutto con pochi ineramenti, soprattutto con poco tempo, l'intensità, a netto di quello che vi ho appena detto sull'aspetto tecnico, andrei a curarla su quello che i miei giocatori, i miei giocatrici devono fare in campo. E le differenze tra una squadra maschile e una femminile. Allora, io ho sempre nato le due squadre nella stessa maniera dal punto di vista tattico. La differenza è prevalentemente fisica, legata alla forza, ovviamente, per una struttura muscolare il più delle volte differente, come normale che sia fisiologicamente, però l'aspetto predominante è sempre quello che voglio che facciano i miei giocatrici in campo. Quindi il discorso è questo. Il discorso è il fatto di dire cinque allenamenti li dedico a quello che voglio che facciano in campo. Poi, chiaro, lo devono portare in campo. Però questo credo che sia molto importante. E la differenza è praticamente fisica. Perché il modo di allenare, il modo di portare gli allenamenti in campo, sono quelli che io utilizzavo adattando alle qualità tecniche, alle qualità fisiche, alle qualità cognitive e anche i prerequisiti tattici che hanno le giocatrici, ovviamente. Però la modalità di allenamento è quella. La metodologia è quella. Per utilizzazione tattica, come ho detto poco fa. Quindi utilizzo questo. Poi c'è un aspetto mentale chiaramente differente. C'è un aspetto legato alla comunicazione che è una materia che andrebbe molto, molto, molto studiata. E penso che gli allenatori debbano studiarla. Oltre che l'aspetto tecnico-tattico, fisico-cognitivo, l'aspetto comunicazione credo che sia fondamentale. Credo che lavorare sulla comunicazione sia importante, anche nel maschile, ma chi lavora nel femminile, penso che sia assolutamente determinante per tutto. Andando, spero di averti risposto e se hai altre domande, con vero piacere, come per gli altri amici che vedo che sono online. bene. E faccio sempre questa domanda agli allenatori. L'ho fatta a Mr. Longo, a Semplici, a Mr. Semplici e a Mr. Anderazzoli. Come gestire uno spogliatorio? E faccio questa domanda perché? Perché volevo sapere da grandi allenatori come fare. Come fare? Penso che sia importante, me lo chiedo, sempre. Cerco di capire sempre in modo migliore, cerco di capire sempre come parlo con i giocatori, con le giocatrici. E quindi sapere come gestiscono gli spogliatoi, certi spogliatoi, penso che sia importantissimo. E ho avuto delle risposte simili, non uguali, ma simili. E io credo che per gestire uno spogliatorio si debba essere onesti. Prima di tutto con se stessi. Quindi per gestire uno spogliatorio devo essere onesto con me stesso. E quando sono onesto con me stesso posso gestire uno spogliatoio. Quando capisco dove, come, scusatemi, posso parlare con i miei giocatori o miei giocatrici, cosa voglio dire, cosa voglio trasmettere, cosa voglio far arrivare alle mie giocatrici o giocatori, penso che questa sia una cosa importante per la gestione di uno spogliatoio. Dobbiamo capire che non tutti i giocatori sono uguali, non tutti i ragazzi o ragazze sono uguali, non può essere usata la stessa comunicazione, è impossibile, perché sono tutti differenti. Tutti recepiscono, tutti recepiscono in maniera differente e quindi penso che l'onestà verso i giocatori sia determinante per la buona uscita di una gestione dello spogliatoio. E chiaro che poi ci sono tanti altri aspetti, ma sono a corollario, ma credo che l'essere se stessi, ma soprattutto conoscere se stessi sia fondamentale per la buona gestione di uno spogliatoio, sia maschile che femminile. E l'onestà, anche se si dice che i maschi preferiscono che si sentano a dire delle balle, delle bugie, non sempre, non sempre. Se si gioca, se si allena dei giocatori evoluti, adesso ce ne sono, dei giocatori di un certo tipo, magari dei giocatori con esperienza, penso che devi essere onesto, devi dire le cose come sono, poi piacere o no, poi possono piacere o no le cose come sono, però penso che sia importante questo. È arrivata un'altra domanda che mi sta ascoltando e mi fa piacere. Conoscere se stessi, chapeau mister, grazie. Qui non leggo il nome, ma penso di sapere chi l'ha scritto, quindi mi fa molto piacere. Purtroppo ci sono delle, come posso dire, impostazioni della privacy che non mi fa leggere il nome dell'utente, ma penso di sapere chi me l'ha scritto. Vado, se ci sono altre domande rispondo, ovviamente continuo a rispondere. Sì, ce n'è un'altra domanda, non solo. Sì, ho indovinato. Bene, allora, ecco, benissimo. Quindi è sempre un piacere. Penso che sia Moreno. Quindi andiamo sull'ultima domanda che preparo. Faccio un po', mi faccio una domanda da solo, la Marzullo. Quale consiglio daresti ad un allenatore che inizia oggi ad allenare? Penso che sia un po' un consiglio che do a me stesso tutti i giorni, probabilmente, di studiare, sempre, di aggiornarsi, sempre, di studiare materie fuori dal calcio, cioè non solo calcio. Calcio, ovviamente, sì. Comunicazione, psicologia, aspetti cognitivi, gestione, che secondo me è importantissimo, gestione anche a livello di management. Io mettere anche questo, almeno io studio anche questo. Studiare tanti aspetti, perché sono tante le materie che riguardano il calcio. Il ramo della scienza che potrebbe essere applicato al calcio. Tanti aspetti. Quindi sicuramente essere se stessi, l'ho già detto, avere la voglia di scoprire, avere la voglia di essere curiosi. Questo è un altro aspetto che ho sentito dire in queste serate dal mister semplici e che condivido al 200%. Questo è un altro aspetto importantissimo, bellissimo. parlare, condividere. Questo è un altro aspetto. Condividere. Credo che sia un aspetto troppo importante. Essere qui stasera noi, insieme, è un aspetto troppo importante. Parlare di calcio, parlare di quello che ci piace, parlare di quello che fa bene a noi, ma fa bene anche ai nostri giocatori. E' importantissimo. E quindi penso che siano tutti questi gli aspetti. Quindi cosa posso dire a un allenatore che inizia oggi? Sì te stesso, sì curioso, studia, ma non studiare solo calcio. Studia tanti aspetti. Studia tutto quello che puoi studiare, che puoi vedere, che puoi leggere. E tutto quello che pensi possa essere utile alla tua squadra. E anche quelle che sono le materie del tuo staff. La parte fisica, la parte legata ai portieri, la parte legata all'aspetto cognitivo, la parte legata alla bidonaisi. Penso che sia importante. E' arrivata un'altra domanda. A proposito di gestione. Pensi che sia ad adattare ai gruppi che si hanno a disposizione oppure tieni il tuo modo di agire e operare indipendentemente dalle caratteristiche caratteriali dei tuoi giocatori e giocatrici? Grazie. Penso sempre che sia ad adattare al gruppo che ho a disposizione. Prima conosco le qualità dei miei giocatori o giocatrici e prima so come posso operare, come posso lavorare, cosa posso trasmettere e soprattutto cosa posso chiedere alle miei giocatrici o giocatori. Credo, io negli ultimi anni sto facendo così e penso che sia questa la strada giusta da seguire. Conoscere prima, studiare, conoscere, adattare, trasmettere. Questo è un po' quello che mi piace fare e che faccio. E quindi questo è un modo un po' che penso che sia la strada che un attore debba seguire. Un'altra domanda. Cosa pretendi dal tuo renatore dei portieri? Ovviamente dei portieri. Pretendo, sai, cosa condivido? Cosa mi aspetto? Ecco, diciamo più che pretendo. Cosa mi aspetto? Mi aspetto che possa mettere in condizione il mio portiere di essere pronto nel momento in cui viene chiamato in causa. E voi potete dire, grazie al cavolo. Ma non è scontato. Non è scontato. Dipende sempre dalla tua squadra. E per dire questo, io devo conoscere la mia squadra. E quindi vuol dire che il mio preparatore dei portieri deve lavorare in sinergia con quello che voglio io. Deve lavorare con il suo background, chiaramente, da preparatore e la maggior parte dei casi da portiere. Ma penso che debba essere tutto collegato a quella che è la richiesta del renatore a quello che è il modo di renare dei preparatori dei portieri. Quindi penso che questo sia un aspetto molto, molto importante. Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti preparatori dei portieri. Ho parlato prima di Andrea Sardini. Questo è uno dei preparatori dei portieri con cui ho lavorato. E c'era questo tipo... Ero secondo, in quel caso, di Paolo. E c'era questo tipo di sinergia. E questo è importante. E cosa chiedo ai portieri? Chiedo di parare. Chiedo di parare. Il portiere deve parare. E credo che sia troppo importante non scordarci che il portiere deve parare. Poi, se vogliamo giocare da dietro, dato che adesso c'è questa diatriba, che per me non è una diatriba, nel senso che si può giocare da dietro? Giochiamo da dietro. C'è una palla lunga? Giochiamo una palla lunga. Si deve giocare una palla diagonale? Giochiamo in diagonale. Perché dobbiamo creare una diatriba? Perché devo dire che c'è questa modalità di costruzione del gioco meglio dell'altra. Perché? Perché devo togliere la palla lunga alla mia squadra. Perché devo togliere la palla corta alla mia squadra. È uno strumento che do alla mia squadra per iniziare il gioco. Per gestire il gioco. Per giocare veloce. Io non vedo il motivo per cui io debba odiare la palla corta, costruire dal basso. O debba odiare chi gioca la palla sopra. Perché? Ci vi faccio sempre questa domanda. Perché devo odiare? Devo togliere? Quindi, sono io allenatore che tolgo un qualcosa che non mi piace alla mia squadra. Non do uno strumento alla mia squadra. Per quale motivo? Cioè, questo io non lo concepisco. E quindi alla mia squadra do questi strumenti. La palla lunga, la palla corta, la palla intermedia. E quindi dipende. Dipende di cosa ci serve. Dipende come è la nostra squadra. Dipende dalle caratteristiche. È una squadra che ama il fraseggio? È una squadra che dopo il fraseggio verticalizza? È una squadra che dopo il fraseggio fa cambio gioco? È una squadra che non fraseggia? È una squadra che fraseggia e vuole arrivare in porta col pallone? Questo non deve esclusivamente andare dal nostro. gusto. Vedere che giocatori o giocatrici abbiamo. L'altra domanda? Per preparare tatticamente la tua squadra, quanto contano i video rispetto ad un possesso palla riferito all'avversario? Allora, i video contano, mi piacciono. Io ho l'abitudine di ricevere il video, assemblarlo e inviarlo alla squadra. E poi si fa la video analisi insieme. Mi piace sapere anche i pareri dei miei giocatori o giocatrici. Me lo faccio inviare perché voglio che siano attive anche da questo punto di vista o attivi. Quindi questo è un aspetto. E quanto contano? Contano in relazione a quella che è la conoscenza, a quella che è la conoscenza della squadra avversaria. Essendo che mi piace conoscere e voglio che la mia squadra conosca, quindi contano da questo punto di vista. Contano anche per la costruzione di esercitazioni. Perché no? Mi è successo una volta dimostrare un video, fare un'esercitazione, fare gol seguendo i principi di quella esercitazione, riprendere quel video, prendere il video, il frame, mettere un quadrato con un giocatore dentro, un giocatore fuori, un giocatore di tipo gioco di posizione, chiamiamolo così, ok, giusto per farvi capire, e fargli vedere la squadra. Ho fattogli vedere l'azione e il gol, che tutti hanno riconosciuto al gol, e poi nel frame successivo ho fattogli vedere l'azione e il gol con questo quadrato che non era altro che il movimento sull'esercitazione che avevamo fatto al venerdì. Quindi questo può contare, è una cosa che a me è piaciuta molto, che alle giocatrici è piaciuta molto, e quindi può contare. Non è assolutamente l'unica cosa, è uno degli strumenti che ho a disposizione e che metto a disposizione. Rispetto, un'altra domanda, mi fa piacere che stanno arrivando tante domande. Rispetto ad un avversario più tecnico, preferisci mandare avanti la tua idea di calcio o adattare tatticamente la tua squadra in riferimento all'avversario? Dipende. Ci sono delle situazioni che voglio e ho la necessità di adattarmi, ma delle volte voglio adattarmi, anche se l'avversario non è necessariamente più forte, tecnicamente. Quindi magari, mi viene in mente questo, se vado a pressare forte, va a eludere, dato la qualità tecnica superiore, va a eludere il mio contropressing, per esempio. Però, non necessariamente, penso che se l'avversario è più forte, devo necessariamente lavorare adattandomi. Delle volte mi posso adattare, ma delle volte mi posso adattare, anche quando l'avversario non è più forte di me. Oppure, quando l'avversario è più forte di me, posso comunque continuare a fare il mio gioco. E' come quello che avevo detto prima della costruzione del gioco. Dobbiamo riuscire a capire questo, noi dobbiamo essere bravi a fare questo, anche con l'aiuto dello staff, ovviamente, e riuscire a dare, a proporre l'aspetto migliore alla nostra squadra. Quindi ci saranno delle partite che mi adatto, delle partite che non mi adatto, in relazione o meno alla forza superiore o inferiore dell'avversario. Questo è un po' l'aspetto, quello che penso. Però per riassumere un po' tutto quello che vi ho detto, credo che sia troppo importante dare tutto quello che possiamo dare ai nostri giocatori, ai nostri giocatrici. Credo che sia troppo importante questo aspetto, senza andare a escludere alcuni aspetti. A volte escludevo delle cose che non mi piacevano, però poi magari questa cosa, anche se non mi piaceva, era utile alla mia squadra. E quindi questo è troppo importante. Allora, nel discorso pre-partita, quanto tempo dedichi al discorso motivazionale e quanto a quello tattico? Quello tattico non lo faccio, ma sono anni che non faccio il discorso tattico pre-partita, semplicemente perché penso che un discorso tattico pre-partita vada a giustificare il lavoro settimanale. In settimana crediamo nel nostro lavoro, io credo nel mio, e quindi sì, alla domenica mi devo, questo è il mio pensiero chiaramente, mi devo ridurre a tre minuti, cinque minuti, dicendo attacchiamo questo, attacchiamo questo, facciamo questo, contro pressing, linea alta, linea bassa, costruzione alta, costruzione bassa. Non lo vedo come un tempo utile per trasmettere qualcosa ai miei giocatori. Invece l'aspetto motivazionale è importante, anche qui bisogna fare attenzione e online abbiamo un mental coach importante come Moreno Marchesini, bisogna fare attenzione a non fare danni e questo penso che sia una cosa importante. Quando noi pensiamo che un discorso motivazionale possa dare motivazione, ma in quel momento lì stiamo facendo un danno e quindi bisogna essere bravi, prima di tutto, ad essere allenati noi allenatori mentalmente. Questo penso che sia un aspetto troppo importante e va oltre la tattica. Se noi allenatori siamo allenati mentalmente, siamo pronti a fare questo, possiamo evitare di fare danni. Se noi allenatori pensiamo che da soli possiamo fare questo, è difficile, è molto difficile. E quindi, per rispondere alla tua domanda, è prettamente motivazionale, anzi, è prettamente emozionale. Però bisogna stare attenti a gestire le emozioni. Questo me l'ha insegnato Moreno, quindi sono contento di dirlo. Di gestire le emozioni, non quello che ho detto prima. Non voglio mai, l'ho detto qualcosa che non va bene. Quindi questo è un aspetto per me troppo importante. Ho letto un po' tutte quelle che sono state le domande che ho ricevuto tramite mail che mi avete fatto questa sera. È stata una bella chiacchierata rispondendo alle domande. E sono contento di queste serate. Settimana prossima, vi faccio un piccolissimo spoiler, per chiudere il 2022, no, per chiudere i webinar, per chiudere il 2022, stiamo cercando di fare una doppia live, una sicura, lunedì alle 18, con mister Alessio Lishi, scorso anno a Levante nella Liga. E stiamo cercando di chiudere con mercoledì alle 21, però è ancora in, diciamo, work in progress, quindi stiamo lavorando. Continuiamo con questo anche per il 2023, come vi ho detto, probabilmente anche per il settore giovanile. Io, c'è ancora un messaggio che non posso non leggere, io vi stavo salutando, ma c'è questo. Grazie a mister, a presto. Grazie a voi. Vi ringrazio, ho fatto piacere parlare con voi questa sera. Per qualsiasi domanda, per qualsiasi richiesta, scrivete sui social di Coaches, gruppo privato VR Football Coaches, oppure la pagina Instagram, VR Football Coaches, e c'è anche il canale YouTube, sempre, VR Football Coaches. Vi auguro una buona serata e ci vediamo al prossimo webinar. Ciao.